Questo panel che vuole evidenziare come rispetto alla guerra in Ucraina, rispetto alle emergenze di questi ultimi anni, l'industria della difesa, quella italiana che oggi è qui presente con esponenti di spicco, ha dovuto ed è riuscita a far fronte a queste pressanti esigenze. Io farei un paio di giri con due domande a tutti voi a partire dalla mia destra. Vi presento i miei ospiti, l'ingegnere Lorenzo Mariani che è co-direttore generale di Leonardo, Alessandro Ercolani che è amministratore delegato di Rain Metal Italia, Lorenzo Benigni, la mia sinistra senior vice presidente responsabile per le relazioni istituzionali e governative di Elettronica Gruppo ed Emanuele Galtieri che è amministratore delegato di Cyphergate, società attiva nel settore della cyber security, tema che è stato trattato anche nel panel precedente. Dopo tre anni e comincio a rivolgere la domanda all'ingegnere Mariani di continua emergenza, pensiamo al Covid che ce lo siamo dimenticati, ma per l'industria tutta e per quella della difesa in particolare ha rappresentato sfide importanti nel organizzare e gestire la produzione. Poi la guerra in Ucraina, la crisi energetica che ne è conseguita, molte industrie della difesa e anche industria pesante, energivora non tutta, ma una parte importante lo è sicuramente. Qual è oggi il contesto in cui deve operare l'industria della difesa? Tenuto conto che parliamo in questo caso l'ingegnere Leonardo che è tra i primi dieci gruppi del settore difesa al mondo, quindi con ramificazioni e interessi anche in vari paesi oltre all'Italia. Prego ingegnere. Grazie, grazie Gianandrea. Allora, come già secondo me è emerso dagli interventi degli illustratori che mi hanno preceduto, secondo me si parla soprattutto di sfide, di sfide che già stiamo obbligatoriamente affrontando e che dovremo affrontare ancora di più. Io faccio notare alcuni aspetti perché sono stati trattati molto bene da chi è di mestiere le operazioni militari. Io le osservo soltanto da un lato puramente industriale. Osservando il conflitto russo-ucraino io trovo una peculiarità, lo hanno definito come un conflitto tradizionale di attrito, effettivamente c'è stato, se ricordo bene sono stati prodotti da quel momento all'inizio del conflitto milioni di munizionamenti relativamente tradizionali e tradizionale. Però, come ha detto giustamente anche Gianni Serino, e lo sapevamo, anche un numero importantissimo di droni. Quindi, ed è stato un conflitto nel quale l'utilizzo dei sistemi di guerra elettronica, adesso poi non voglio rubare il parterra a elettronica, è stato particolarmente sentito anche su sistemi che noi abbiamo avuto occasione di schierare. E allo stesso tempo c'è stato anche l'utilizzo di missili personici. Quindi quello, eppure quello, sapevamo dell'esistenza di personi che esiste da decine di anni, però secondo me non eravamo preparatissimi. Allora, quindi quello che nota è che lì c'è la confluenza di cose, tra virgolette, antiche e cose che invece hanno messo fortemente in dubbio la nostra capacità di contrastare queste minacce. Altro elemento, adesso il conflitto a Gaza. Anche là lo guardo dal punto di vista molto industriale. Sono arrivati con i deltaplani, sono arrivati con i battelli, sono arrivati con i sub. Io lo definirei conflitto multidominio a questo punto. E anche questo probabilmente in una situazione dove tra l'altro probabilmente anche le radio non hanno funzionato sempre. Quindi c'è un elemento di cyber. Quindi quello, secondo me, tutto questo per dire che questi recenti conflitti hanno messo in luce due sfide importanti, secondo me, a cui l'industria già si sta attrezzando a reagire, però richiede come, adesso poi spendo un minuto proprio sul come, richiede un attimino di sforzo. Primo, sicuramente prepararsi su quelle che sono delle sfide operative, quindi fare di più, fare in tempi più rapidi, aumentare le produzioni. Allora, questo sì, già si era visto in un certo modo, in modo un po' diverso anche durante la pandemia, ma in questo caso è stato veramente un mettere a dura prova degli apparati industriali a 360 gradi che si erano attrezzati per fare molto di meno. Adesso, perché io questo vorrei che fosse ricordato, che nei 10-15 anni prima del Covid, sicuramente, tutta l'industria bellica nazionale si era attrezzata scientificamente per rispondere a investimenti minori, per rispondere al fatto che eravamo tutti convinti che ci fosse la pace, che l'Europa garantisse la pace. Quindi il cambio di marcia è un po' come, mi perdonerà l'ammiraglio, è un po' come il cambio di rotta di una porta aeree, di una porta aeree importante, insomma. Quindi questa è una prima sfida sicuramente, che a sua volta secondo me si apre, sicuramente in uno sforzo interno dell'azienda, perché parliamo di risorse umane, sicuramente, parliamo di entità, di linee di produzione, ma parliamo soprattutto poi di filiere produttive, perché sono le filiere produttive quelle che più hanno sofferto e quelle che più è difficile rimettere in tiro su quantità maggiori e su cose diverse. Poi la seconda famiglia di sfide è quella che è legata alle nuove tecnologie, ovviamente. Nuove tecnologie sulle quali io metterei insieme alcune tecnologie che fanno parte della famiglia della digitalizzazione spinta, quindi sicuramente il digital twin, l'intelligenza artificiale, la cyber in generale, e altre che sono più collegate alle singole minacce e che a volte includono queste tecnologie. Penso all'antipersonico. Adesso io credo che l'ipersonico, se ricordo bene, esista già da molti anni, direi da decine di anni. Quello su cui non siamo preparati oggi, a mio giudizio, è l'antipersonico, quindi è lì che vanno introdotte nuove tecnologie, nuovi studi, per avere dei sistemi che possano rispondere in maniera affidabile. Quindi questo è un punto importante. Allora, quindi direi che queste sono le due grandi famiglie di sfide, a cui, a mio modesto giudizio, un'azienda come Leonardo può rispondere soltanto con un movimento su tre assi. Uno, sicuramente investimento proprio, visione propria, parlo in particolare di quanto spendi sulle tecnologie, di quale tecnologie scegli, non le vuoi fare tutto, è il partner che scegli. Un secondo è un tema di coerenza con la strategia di paese. Noi non andiamo adesso a una parte, se non riusciamo a fare una strategia di paese importante, quella si sta facendo in questo momento con il presente governo. La terza linea, secondo me, e non la elaboro più di tanto oggi perché su me richiederebbe un convegno a sé, è quella della collaborazione. Collaborazione che, e non parlo della collaborazione soltanto italiana, la ritengo doverosa, quella intra-country, anche collaborazione internazionale, collaborazione europea, collaborazione transatlantica, che apre a sua volta poi delle complessità, delle sfide. Ricordiamoci che ogni volta che facciamo una collaborazione la facciamo perché fondamentalmente da soli non riusciamo a fare una cosa nei tempi e nei costi in cui vorremmo farla e ogni volta per fare due metri in più tutti insieme o due chilometri o due miglia, dobbiamo fare un passettino ciascuno di quelli che si mettono intorno al tavolo indietro, rinunciare quindi a qualche cosa. Questo è quello che fondamentalmente complica in genere i tavoli di collaborazione, però oggi lo ritengo una terza linea, ma non terza in ordine di importanza, probabilmente non dico la prima, ma al pari delle altre. E qui mi taccio. Grazie. Alessandro Ercolani, a tutte queste valutazioni possiamo aggiungere anche che Rain Metal Italia è l'azienda italiana che fa parte del grande gruppo tedesco Rain Metal, in questa guerra ha avuto un ruolo importante, il gruppo Rain Metal è un fornitore, è importante anche l'Ucraina, sta per aprire uno stabilimento in Ucraina o comunque ha intenzione di farlo, ci sono già gli accordi. Ma il vostro stabilimento ha avuto un sacco di lavoro e siete un'azienda che su questo contesto internazionale attuale avete molto da dire. Io inizio come il generale che dopo il generale Sarino è difficile aggiungere qualcosa, io dopo tutti i relatori, dopo l'ingegnere Mariani è difficile aggiungere qualcosa. Sicuramente noi siamo tra i gruppi più attivi in questo momento con l'Ucraina perché chiaramente abbiamo colto quello che poi è stato tracciato molto bene con una dimensione tecnologica, nella dimensione tecnologica e chiaro che l'industria ne è in qualche modo un attore. Ovviamente l'ingegnere Mariani ha già tracciato quelli che poi sono gli aspetti più importanti dal punto di vista industriale. Dico solo tre cose che riguardano più il modello, che abbiamo visto anche come esperienza diretta con l'Ucraina. Al primo, chi è stato al Dubai Show qualche settimana fa, secondo me il mondo è cambiato. Perché tra una grossa crescita di tutte le industrie del Medio Oriente, che non sono ancora al pari delle industrie italiane, ma hanno un trend decisamente alto di crescita e di investimenti. Quindi parlo di tutta l'azienda degli Emirati, quindi in questo caso la Budapipon Edge, parlo ovviamente della visione della Besodita. I parti di Abramo hanno chiaramente, al di là della situazione recente, però creato questo grosso connubio e rafforzato dell'industria israeliana e l'industria israeliana è rafforzata alcune industrie locali. Quindi qualcuno si sta attrezzando. Il blocco asiatico, recentemente abbiamo visto la Corea, l'industria coreana, vincere i mercati europei, cosa che era la prima volta che succedeva, come i mercati australi. Quindi specialmente nel mondo terrestre, guardo il jeserino, in Polonia l'industria coreana ha fatto un passo di presidio molto importante. A questo aggiungo, sempre nel blocco asiatico, ovviamente Cina e India, il Gcap con il Giappone che non modifica l'articolo 9, ma tutto sommato ci sta cominciando a girare intorno e pongono un nuovo obiettivo industriale, che è quello che poi stiamo ritrovando in Ucraina come competizione, anche se in quel caso in qualche modo è un supporto, ma la pulsione industriale poi in qualche modo il gioco dopo sarà una competizione. Aggiungo la Germania, insomma di cui il gruppo ne fa parte, che con i 100 miliardi, tanto insieme al Giappone, sono due paesi che stanno cercando, cioè le due sconfitte della seconda guerra mondiale che in realtà stanno rilanciando. questo vuol dire che il lato industria italiana, diciamo, dobbiamo tener conto che l'industria italiana, se prima si muoveva i mercati, uso la parola protetti perché mercati affiliati perché credevano i mercati di congi italiana, oggi quegli stessi paesi o stanno crescendo per capacità nazionali o, come dire, le industrie italiane stanno trovando un'arena di competizione che prevede che molti più attori insistano su quel mercato. E questo a livello internazionale, a livello ovviamente anche europeo, la competizione, poi insomma Leonardo esprime la più grossa capacità nazionale. Ora, a parte le grandi alleanze, appunto, Eurofighter, Giappone, forse l'Aeronautica ne ha espresso appunto, forse la dimensione più interessante, ora anche con la legge terrestre, la chiamole così, sta provando a fare qualcosa. Ora, come dire, forse lì bisogna capire se poi si sta andando su una Europa della difesa in cui tutti spendono dei soldi su una famosa difesa europea, dove in realtà invece si cerca di fare squadra, perché poi quando si compete con la Cina, ad alto mi sono dimenticato la Turchia, non so se l'hai visto per chi è appassionato di borsa, la Turchia negli ultimi cinque anni il titolo di Asens ha aumentato il 264%, quindi uno dei titoli che ha più preso valore nel mercato dei capitali. Questo vuol dire che quando si compete fuori, si compete con grandi colossi e le dimensioni, appunto, accetto poi Leonardo, tutte le altre dimensioni sono un po' più piccoline. Secondo, diciamo, aspetto, quindi sull'Ucraina, come lezione, diciamo, del Covid, dell'Ucraina, di questi conflitti, in realtà le dimensioni su cui ci confrontiamo sono cambiate. Secondo aspetto, l'industria è abituata a progettare in peace time, cioè dieci anni di sviluppo, cinque anni di consegne, come dire, in un clima di amicizia, ora guardo i colleghi, diciamo che è bella, però in un clima di amicizia. Ora siamo in war time, cioè nel senso rapidità verso squalità. Ora, mettere un drone vale di più che probabilmente di spiegare un carro o una cosa che ci ha voluto i vent'anni. Ora, tutto questo impone una grandissima rivisitazione di quelli che sono i modelli industriali, perché appunto si richiede probabilmente una maggiore integrazione e interazione con le forze armate per cambiare il modo in cui l'industria ha progettato e lo fa attraverso un rapporto con il cliente, in questo caso la forza armata. Quindi probabilmente qua la situazione ucraina richiama a un diverso patto, forza armata e industria. E l'ultimo punto, e poi così finisco, è un po' secondo me deviati dalla lingua inglese. Noi siamo stati abituati a ragionare in concetti. Guerra simmetrica, ta, guerra simmetrica, ta, guerra nomi. Cioè, l'Ucraina è tutt'altra cosa, è un misto di cose, difese e sicurezza, tecnologie civili e militari, spazio, cyber, terra, aria, tutto insieme. Ora, questa cosa che a sua volta la, diciamo, la, come dire, la complementarità di tecnologie civili in militari o viceversa, normative di cui stesso noi oggi due use 185, ora il quadro è cambiato e di nuovo se non si vede in un quadro difesa sicurezza molto più legato e quindi anche l'industria comincia a mettere dentro delle capacità che permettono a, non so, a un carro di dialogare con Starlink che è diventato l'enabler di tutta una serie di comunicazioni in campo di battaglia, probabilmente non ce la facciamo, ma torno al punto di prima, ma per farlo, cioè qualificare dei tecnologie civili in quelle militari, le forze normative non ce lo fanno fare perché richiedono dei standard di qualità diversi, ovviamente per colpa forze normative, ma perché questo è il processo su cui abbiamo impostato questo rapporto industria-difesa, quindi secondo me ecco, questo è il tema di ragionamento e l'Ucraina in questo è un acceleratore, noi ci hanno chiesto di spedire forse il più evoluto sistema di difesa aereo al mondo che chiaramente si dava in tre o quattro anni in dodici mesi e questo vuol dire fare investimenti, preparare i magazzini, comprare materiali prima, mettere le persone, ecco, questo secondo me è quello che l'industria deve prendere come cambio di modello, però chiaramente in relazione a quella che è poi la dimensione che le forze armate e le istituzioni devono in qualche modo creare per l'industria. Lorenzo Benigni, la guerra in Ucraina è stata anche una grande prova di guerra elettronica, proprio il report dei giorni scorsi parlavano delle raggiunte, migliorate capacità russe di far cadere molti droni ucraini, addirittura missili da crociera, tenuto conto che ogni notizia in tempo di guerra va sempre presa con le molle perché la propaganda impera ovunque, ma elettronica è un gruppo che si è fatto una grandissima reputazione nel mondo proprio nel settore della guerra elettronica, ma proprio parlano delle sfide più recenti, mi siete affermate con prodotti anche sanitari nel settore del Covid, oggi guardate a tanti domini diversi, anche allo spazio. Ho messo giù degli appunti, mi permetto di leggere per essere più chiaro. I periodi di crisi mettono le aziende davanti alla necessità di un cambiamento e mettono alla prova la capacità di adattamento e resilienza alle nuove situazioni. Parlando di emergenza Covid, elettronica come azienda del comparto della difesa, non legata dai cicli di mercato consumer tipo turismo, commercio e servizi, ha subito conseguenze meno gravi di quelle appunto di altri settori. Ci sono stati rallentamenti nelle operazioni con effetti sui fatturati, sull'acquisizione degli ordini, ma sostanzialmente la tenuta aziendale ha retto e gli anni post-Covia hanno visto un ritorno a condizioni pre-crisi. All'interno delle aziende ci si è concentrati su piani rivolti alla sicurezza del personale, alle nuove metodologie di lavoro e a distanza che hanno disegnato nuovi modelli organizzativi. Le crisi geopolitiche e militari hanno portato in evidenza la fragilità di fattori critici legati alla catena di fornitura internazionale, alla disponibilità di materiali strategici, agli schieramenti politici di paesi con cui si pensava possibile sviluppare relazioni. Sono problematiche comuni a molti settori industriali, ma per il comparto della difesa hanno assunto una rilevanza particolare. Vorrei sottolineare come la risposta dell'EU sia alla crisi sanitaria con il programma Next Generation EU e con le rinnovate attenzioni e iniziative sulle tematiche di una difesa europea hanno creato un ambiente di forte supporto alla soluzione dei fattori di crisi e disegnato un nuovo ambiente di riferimento. Elettronica ha dimostrato la propria capacità ad essere resiliente, ha approfittato dello stimolo a ridisegnare un piano strategico a lungo termine, che accanto al rafforzamento del proprio core business ha previsto l'applicazione delle proprie tecnologie e competenze specifiche ai nuovi settori, come la biodifesa, come dicevi prima, con una iniziativa rivolta al mercato delle molecole di virus e batteri, l'E4Shield. Nuove soluzioni tecnologiche, aperture di nuovi mercati con regole di localizzazione di attività e spinta all'applicazione delle nostre tecnologie a settori emergenti, dallo spazio al contrasto dei droni ostili, caratterizzano la nostra strada di sviluppo. Rimane centrale nella nostra posizione la capacità di gestire lo spettro elettromagnetico, esteso alla dimensione cyber per far fronte ai nuovi scenari operativi emersi nei recenti conflitti. Il contesto è quindi meno stabile, più ampio relativamente alle minacce e alle sicurezza, caratterizzato da un'ampia dinamica di soluzioni. Si parla di grandi sistemi e dei sistemi, come il GCAP, per riaffermare una superiorità di teatro e di situazioni che vedono aspetti della vita civile e sociale diventare strumenti di conflitto. Attacchi cyber, negazione di materiali critici o fonti di energia, disinformazione. Il panorama è molto più vasto e baricato e la resilienza e flessibilità e capacità di anticipare il futuro diventano fondamentali. Grazie. Emanuele Galtieri, se ne è parlato nel primo panel con illustri ospiti militari, parliamo di cyber sicurezza. Tenuto conto che questo conflitto ha evidenziato una minaccia cyber generalizzata come tutti i conflitti o le crisi possono già far per vedere, ma siamo di fronte anche a un'esigenza di proteggere da attacchi cyber i singoli sistemi d'arma o almeno le piattaforme più importanti. L'approccio di Cyphergate a questo tema. Sì, grazie molto Gianandrea, grazie a tutti. Ho annotato alcune parole chiave di chi mi ha preceduto. Il fattore tecnologico per cui l'importanza è la tecnologia, il fattore umano e il training, il tema della interoperabilità e della connettività tra piattaforme per creare un ambiente network centrico e l'impiego ampio di strumenti off the shelf che sono connessi per definizione per cui comunicano e trasmettono dati e il concetto di guerra globale. Ora, tutto questo richiama a una trasmissione dati che ahimè non avviene solo nell'ospetto elettromagnetico, così abbiamo anche noi un po' di lavoro in generale sul tema della cyber, ma d'altronde anche l'esercito con la sua brigata trasmissione a un reparto sicurezza cibernetico, per cui ecco il tema è di assoluta attualità. Ora, quello che è emerso nella guerra russo-ucraina, ma quello che abbiamo visto e assistito nel Nocorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaijan, quello che si vede nel conflitto attuale contro Hamas da parte degli israeliani è che ci troviamo in quella che oggi viene definita l'Internet of Battlefield Things, per cui tutto è interconnesso, tutto ha una trasmissione dati, tanto ha trasmissione dati che possono essere oggetto di attacco cibernetico. Ora, se noi pensiamo all'incipit di questa guerra che può essere asimmetrica, perché come guerra globale o guerra totale è asimmetrica e si è ricorso a varie tecniche, tattiche, procedure per avviare questa campagna russo-ucraina, il primo atto è stato un attacco cibernetico ai sistemi V-SAT di navigazione satellitare americani. Questi hanno inciso andando a fare una degradazione delle performance del comando e controllo ucraino. Non si può non tenere in considerazione questo fattore e non si può non tenere in considerazione che molto spesso stiamo interconnettendo sul campo di battaglia tra di loro sistemi legacy, cioè che non erano nati per essere interconnessi. Questo vuol dire che necessariamente recano con sé delle vulnerabilità che vanno affrontate. Allora, un primo tema per l'industria della difesa, per tutti noi che operiamo nel settore, deve essere quello di tenere in considerazione che ogni qualvolta ci si muove in una iniziativa di redesign, per cui i cosiddetti midlife upgrade, i programmi di upgrade per cui di ammodernamento di qualsiasi tipo di piattaforma, va considerata l'ipotesi di inserire un layer di cyber security che in questo caso è add-on per tutelare ciò che esiste. Perché? Perché le piattaforme legacy sono destinate ancora a durare tanti anni nel tempo. Pensiamo appunto all'Eurofighter, pensiamo alle Frem o alle Orizzonte o a qualsiasi altro sistema ground. Però dobbiamo ragionare in ottica secure by design nel momento in cui vengono lanciati i nuovi programmi. Penso al Gcap che è partito, penso alle Frem Evo che dovranno avere un redesign molto forte o qualsiasi altra piattaforma che si muoverà in questa direzione. Questo comporta per le aziende anche ragionare in un'altra ottica. I nostri sistemisti softwareisti, integratori di sistemi algoristi non hanno mai approcciato il concetto della cyber embedded all'interno dei sistemi. È un cambio di mentalità che richiede una stretta collaborazione e sinergia tra tutte le ditte che hanno capitale umano e competenze tra di loro differenziate. In Italia questo ce l'abbiamo. Secondo tema, questo tipo di guerra asimmetrica è una guerra che per gli attaccanti è molto più agevole da combattere. Perché? Perché la superficie d'attacco, il perimetro cibernetico è molto più ampio, perché possono giocare sull'effetto sorpresa ovviamente e perché è globale, può arrivare da qualsiasi parte in quanto si chiama asimmetrica appunto abbiamo un nemico impalpabile. D'altro canto l'attaccante si ritrova a dover proteggere un vasto territorio cibernetico, pensiamo a una nazione, le istituzioni, ma non solo le istituzioni, le infrastrutture critiche, quali le industrie della difesa, ma qualsiasi altra infrastruttura, energie, trasporti e chi più ne ha più ne metta, rientrano in questo paradigma. E vivono queste grandi realtà di filiere, di fornitori. Anche qui è importante cominciare in un'ottica di irrobustimento delle filiere di fornitura, perché sia le istituzioni sia le aziende hanno primo, secondo, terzo livello di fornitura. E se è facile traccare, avere un tracking sulla cyber resilience del primo livello di fornitura, ossia quelli con cui hai contatto diretto, i fornitori dei fornitori sono più complicati da seguire, rintracciare, da avere un risk rating, un cyber risk rating. Se questo non accade, il rischio di portarsi in casa a vulnerabilità, nonostante si sia già nel perimetro cibernetico adeguatamente resilienti, sia le industrie della difesa, sia le infrastrutture critiche, sia strutture come il Ministero di Difesa, interni e così via, il rischio di portarsi in casa in maniera non voluta, inconsapevole, delle vulnerabilità che costituiscono le porte d'attacco per un potenziale nemico cibernetico appunto, sono elevate, per cui irrobustimento della filiera. Ultimo tema che è stato citato in questo campo è il fattore umano. Servono competenze tecniche elevatissime. Oggi il cyber warrior non indossa molto spesso un uniforme, non ha prestato giuramento di fedeltà alla patria e non è sottoposta a regole di ingaggio. Questo è il nemico con cui ci si trova a dover combattere. Le regole di reclutamento sono completamente diverse. Ecco che allora serve una stretta sinergia tra industrie e forze armate. Perché? Perché le modalità di reclutamento delle forze armate, non parlo in Italia, è un problema diffuso a livello europeo, possono rendere difficile attrarre, trattenere e motivare certi tipi di risorse, che è già difficile per le aziende, che però hanno maggiori leve. Avere una sinergia, creare una sinergia per fornire quelle competenze in termini di risorse umane che permettano di supportare nelle operations, nelle cyber operations, diventa determinante. Qualche paese sta cominciando a sperimentarlo. Questo richiede ovviamente delle modifiche normative, richiede un approccio diverso al recruiting, richiede un approccio diverso alle attività in outsourcing delle forze armate per avere questo tipo di supporto. Però, essendo guerra totale, come tutti stiamo dicendo, la sinergia, il contributo e l'overlapping tra istituzione e industria è adesso un bene, non un male necessario. Grazie. Se dovessi tirare fuori due parole chiave, due definizioni chiave per il secondo giro di interventi, direi filiere, supply chain e aumento di produzione, richiesta di un maggiore aumento di produzione e di una maggiore rapidità nella produzione. Ricordo che qualche mese fa proprio la Germania, la Bundeswehr, ha ordinato 18 nuovi carri Leopard 2, nell'ultima versione, la 8, per impiazzare quelli più vecchi forniti all'Ucraina e ad altri paesi orientali della NATO e mi pare che la commessa verrà completata alla fine del 2025. 18 carri armati, due anni, fino a prima di questa guerra non era neppure un tema di discussione, oggi potrebbe essere un tema di grande vulnerabilità. La domanda che giro a tutti, chiedendovi una risposta anche abbastanza breve, però senza sacrificare i contenuti, è proprio questo. Oggi la sfida principale per il settore della difesa è sempre più caratterizzata da questo tipo di richiesta, maggiore produzione. Lo vediamo nelle munizioni recentemente, il piano europeo per il milione di proiettili sta fallendo, se lo dobbiamo dire onestamente. Siamo a un terzo della commessa, perché li hanno prelevati dai depositi, quindi si sono impoveriti i depositi delle nostre forze armate e però una produzione maggiore, un investimento maggiore richiede appunto investimenti maggiori e anche una programmazione per l'industria. Un'industria non si può dire da domani devi raddoppiare la produzione di proiettili o di qualunque prodotto senza garantirgli la sostenibilità dell'investimento, la copertura finanziaria e il fatto che l'ha commessa sui sviluppi negli anni, credo. Sì, quello che hai detto è più che vero, è probabilmente il problema fondamentale adesso. Allora, io credo che ci siano dei temi in cui bisogna prendere atto che non esiste il quick win, cioè se per secoli non abbiamo, per secoli, per anni e anni non abbiamo più prodotto determinate forme di esplosivo in Italia, io non penso che si possa, nonostante tutti gli sforzi che si stanno facendo in questo momento, tra l'altro con forte coinvolgimento degli stabili militari, che si possa risolvere il problema in un mese, comunque con tempi compatibili con conflitti. Quello che ci vuole è una buona pianificazione. Sulla pianificazione io devo dire oggi non ho paura dei soldi, ho paura sicuramente dell'organicità, cioè del fatto che tutti gli attori riescano poi a mettersi in fase. Mi spiego meglio su due cose in particolare che ha detto Emanuele. Una è il fatto delle filiere, le filiere che nel caso della cyber è particolarmente sentita, ovviamente un consulente di filiere è particolarmente sentito, insomma questo deve essere un progetto gestito anche a livello di sistema paese, perché altrimenti noi comunque come industria abbiamo fatto accordi con Cyborgate, su altre società piccole se entrano nel capitale, su altre magari ce le compriamo, però questo non è che ti può mettere in un anno a competere con grandi player. In altre cose invece il quick win esiste. Mi rifaccio per esempio a quello che ha detto il generale Obala sull'uso dell'intelligenza artificiale sulla manutenzione. Noi là, per esempio, faccio un esempio, quasi per cultura, noi abbiamo una flotta di elicotteri civili di un numero enorme che volano più di mille, a W139, perché ce ne sono tanti altri. Su questi a Sesto Calendano abbiamo messo su un centro che fa largo uso dell'intelligenza artificiale per fini nostri e manutentivi, effettivamente con la manutenzione predittiva il cliente ci guadagna moltissimo e noi gestiamo il tema delle scorte che mancano, perché altrimenti io quando devo fare una preventiva, magari ho bisogno di certe parti, queste parti non ci stanno, la filiera non mi risponde, non è che posso comprarmi metà dei fornitori, anche se me li comprassi poi non risolverei il problema, perché magari è materie prime. Invece in questa maniera siamo riusciti a ovviare e a consentire a gente, in questo caso sono il mercato più demandico, non ce l'ho dimenticato, perché il mercato più demandico è quello del civile che si compra un elicottero, lo paga 20 milioni e vuole volare quando dice lui e come dice lui e possibilmente non cascare. Questo effettivamente ci ha consentito di andare un passo avanti significativo che ci segnala che la via giusta è quella. Il trasferimento alla parte militare secondo me non è banalissimo, sia per numeri non uguali e sia per dei vincoli un pochettino più stringenti, però la via è senz'altro quella quando si parla di qui qui. Qualche giorno fa, anzi no, qualche ora fa, venendo qui a Roma, ho letto un'agenzia che riportava il SIPRE, l'Istituto per le ricerche sulla pace di Stoccolma, aveva valutato che nel 2022 alcune aziende del settore difesa, anche internazionali, avevano avuto un calo del fatturato, mi ha colpito perché infatti è una cosa inaspettata con tutte le richieste che ci sono state, mettendo in evidenza proprio le difficoltà a far fronte alle richieste ricevute in termini di forza lavoro da assumere e in termini di catena logistica dei rifornimenti da alimentare e questo è un tema che penso chiunque oggi si occupi di questi aspetti dell'industria della difesa dovrà tenere in considerazione. Grazie Gianandrea, parto da una definizione, cioè investimento, sapete un costo è una spesa per un bene o un servizio che si esaurisce nell'anno, investimento è una spesa che ha una dimensione pluriennale a cui si socia un investimento e nel primo caso il costo va a deprimento dell'utile perché va nel conto economico, nel secondo caso invece l'investimento va stato patrimoniale e aumenta il valore dell'azienda, però quali le dimensioni? Dimensione pluriennale e ritorno di investimento, altrimenti non si parla di investimento. Allora è chiaro che oggi la risposta facile è c'è bisogno di investire, di produrre, di aumentare le scorte? Sì, allora un investimento chiaramente è di nuovo un patto, un'alleanza, un accordo che si fa con le forze armate perché per fare un investimento bisogna appunto stabilire insieme una dimensione pluriennale e stabilire insieme come quello che si sta facendo possa poi generare valore per l'industria. Ora ne faccio un commento positivo come ho detto in audizione un altro giorno alla Camera. Allora questo DPP sicuramente, quindi il documento programmatico della difesa pluriennale, identifica già quelli che sono sommetili in investimento molto importanti. Tra l'altro di circa 18-19 miliardi per programmi di nuovo avvio, per programmi correnti, circa 5 sono per programmi di nuovo avvio, quindi vuol dire che più o meno il 30-35% delle risorse impiegate nei prossimi anni sono per cose nuove, quindi sono degli investimenti, cioè si va a fare dei caffile, si va a mirare le cose in cui oggi l'Italia non ci sono. Quindi per chiudere, sì è giusto oggi parlare di investimenti, secondo me l'Italia si sta ponendo le domande giuste e sta allocando le risorse giuste. Chiaro che poi le cose vanno fatte e quindi l'execution probabilmente è lì che va. Diciamo. Grazie. Lorenzo Benigni. Il primo è relativo all'eventuale organizzazione di un'economia di guerra, in cui le industrie e la difesa sono chiamate a produrre quando si consumano i conflitti, in termini di munizionamento o quanto altro materiale venga impiegato e vada prodotto di nuovo per l'uso che se ne fa e per la ricostituzione delle scorte strategiche. Il conflitto in Ucraina ha messo in evidenza proprio questo aspetto, esteso alle industrie di tutti i paesi che sostengono lo sforzo bellico-ucraino delle dimensioni finanziarie e nella dimensione industriale riguardo agli impianti da attivare, i volumi produttivi da sostenere per quanto tempo e la ribellibilità dei materiali critici. Tutto questo strettamente legato alle decisioni politiche riguardo al livello e alla durata del sostegno allo sforzo bellico-ucraino. Sia in sede nazionale che europea e transatlantica il problema è dibattuto intensamente. Il secondo aspetto è legato alla dimensione e continuità degli investimenti, spese nel settore della difesa, legati alla richiesta americana ai paesi nato di portare le spese per la difesa al 2% del PIL, alla volontà espressa in sede EU di affrontare in maniera maggiormente strutturata il tema di una difesa europea, al generale mutuata situazione geopolitica che da un clima di globalizzazione estesa e a quasi tutti gli aspetti della vita internazionale vede ora una situazione molto mutata in termini di conflittualità fra paesi e blocchi e relative conseguenze. Il tutto in un contesto dove l'innovazione tecnologica e il suo accelerato tasso di sviluppo sembra disegnare di per sé gli scenari anche in campo di mondo della difesa. È vero che il mondo cambia e che ne abbiamo evidenza quotidianamente, ma in quale direzione e verso quali obiettivi? Evito volutamente di citare l'argomento delle valutazioni del clima, che comunque sottentende anche aspetti inerenti al settore della difesa. I concetti chiave che vorrei esprimere riguardano come dare risposta ad alcuni quesiti chiave, ad esempio dove reperire la tecnologia e come gestire gli sviluppi? Certamente vi è una dimensione nazionale a presidio degli interessi specifici nel Paese, ma la dimensione internazionale a livello europeo e anche a livello transatlantico è quella che permetterà il raggiungimento e mantenimento di un primato tecnologico che farà la differenza per il nostro posizionamento nello scenario globale. L'industria difesa ha una grande responsabilità nel contribuire a tale risultato e rischia di essere vittima della non agilità finanziaria, nel senso della dipendenza da fonti esterne, governative nazionali ed europee e dai clienti internazionali, per la realizzazione di investimenti in tecnologie complesse e indubbiamente costose. Un altro elemento critico è la partecipazione ai grandi programmi internazionali e con tecnologie proprietarie, in modo da poter essere riconosciuti come centri di eccellenza, sicuri del proprio ruolo. Riassumendo gli elementi grigi su cui concentrarsi per la definizione di prospettive di interesse sia industriale che a livello Paese, sono a nostro avviso una pianificazione plurinare degli investimenti con una relativa allocazione stabile e risorse finanziarie, una a livello di collaborazione internazionale per rafforzare e ottimizzare costi e disponibilità di risorse in centri di eccellenza nazionale, le promozioni e il supporto all'esportazione verso paesi esteri dell'industria nazionale e della difesa, al fine di ottenere l'opportuno contributo finanziario allo sviluppo delle tecnologie. La diffusione di una cultura dove i concetti di difesa e sicurezza siano riconosciuti fondamentali e il ruolo e l'importanza nel settore industriale connessa abbiano la corretta considerazione. Grazie. Vi assumo un paio di concetti prima di lasciare la parola a Emanuele Galtieri. Allora diciamo questo che se vogliamo permetterci di produrre di più come sistema di produzione dell'industria della difesa, dobbiamo anche esportare di più per poterci garantire dei volumi. Esportare di più significa disporre di uno strumento legislativo che finalmente invece di guardare a chi possiamo dare le armi, vendere equipaggi, oppure no, in base al contesto che si trovi in guerra o meno, è una mia provocazione a questo ovviamente, anche perché poi facciamo fatica a decidere di sostenere un paese che è in guerra e lo vogliamo sostenere e poi decidere a un altro paese che magari ci è amico e che è in guerra che però in questo caso non gli forniamo più quello che gli avevamo promesso. Forse dovremmo ragionare in termini di noi forniamo equipaggiamento militare a tutte le nazioni a cui abbiamo interesse a farlo come Nazione Italia. Credo che sia un approccio più pragmatico, qualcuno può dire più cinico, però in realtà credo che risponda alla necessità perché è evidente che per quanto ci potremo impegnare in futuro, anche guardando le condizioni economiche dell'Europa e dell'Italia, difficilmente potremo permetterci un livello di investimento nel settore dell'industria della difesa come Nazione tale da sostenere gruppi come questi, aziende come queste che per sopravvivere, per affermarsi sui mercati hanno bisogno di volumi importanti, soprattutto nel momento in cui la Nazione chiede a loro maggiori produzioni. Era giusto per evidenziare alcuni aspetti che potremmo poi anche sviluppare nei panel successivi e senza questo togliere tempo all'intervento di Emanuele Galtier. Grazie mille, solo due rapidi punti tornando un attimo in tema cyber connesso al concetto degli investimenti. Se un radar, se un sistema di guerra elettronica, un sistema missilistico sappiamo sopprono oggi di obsolescenza sulla cyber, manco a dirlo, dopo sei mesi questi sistemi vanno in obsolescenza, dopo un anno è preistoria. Questo cosa vuol dire? Che bisogna anche entrare in un nuovo mindset, che quando si parla di dominio cyber c'è da fare degli investimenti costanti, qui concordo con Lorenzo che il tema non è i soldi, ma una strategia, una visione, è avere un attore chiave che sia quello deputato a parlarne per sviluppare questo tipo di strategia. Bisogna immaginare che sul cyber si parla di R&D costante, ricerca e sviluppo, ricerca e sviluppo. Pensate soltanto che questi oggetti nell'arco di due mesi hanno delle patch un mese, per cui si chiudono delle vulnerabilità, bisogna ricominciare a far ricerca qualora siano strumenti da utilizzare per le comunicazioni in scenari warfare, ha maggior ragione il contesto cyber e questo è il primo tema. Ma se vanno così in obsolescenza, forse è da rivedere, almeno per la cyber, il sistema di procurement. Nel momento in cui una forza armata decide di acquistare un oggetto, si iniziano oggi le fasi di requisitazione, la forza armata ottiene l'oggetto dopo un anno, dopo due anni, probabilmente non lo impiegherà mai nel dominio cyber perché ormai è andato in disuso. Questo è un tema che su questo dominio va necessariamente considerato. Un ultimo aspetto, la cyber non può essere affrontata a nostro giudizio in maniera frammentata, va considerata come un sistema, come una piattaforma, come il Gcap. Perché? Perché ha le stesse, come una suite integrata, perché ha le stesse fasi di operatività che hanno dei sistemi W, dal monitoring, per cui la difesa, al tracking fino al reacting, alle countermeasures, alle cyber offensive, come le si voglia chiamare. Termine tra l'altro con piacere, vedo sdoganato, perché c'è un decreto che permette alla nostra intelligence di poter fare operazioni di intelligence offensive, supportate dalle forze armate ove necessario. bene, per dotarsi di questo io ritengo bisogna cominciare a parlare del lancio di una piattaforma, di un programma cyber al pari di un Gcap, al pari di una Frem, al pari del main battle tank e così via, pensando a una visione strategica di lungo periodo che abilichi le forze armate alle operazioni cibernetiche che non si limitino solo ed esclusivamente al defense. I fondi esistono, vanno ben indirizzati. Grazie molte. Bene, io ringrazio tutti i relatori.